Firenze è ormai diventata uno dei punti di riferimento per le tendenze del turismo. Torna infatti i prossimi 30 novembre e primo dicembre BTO, la Borsa del Turismo Online, evento promosso dalla regione toscana, un palcoscenico dove saranno trattate le tematiche del rapporto tra travel e innovation. 148 eventi che vedranno protagonisti big player del web, tra cui Airbnb, Booking, TripAdvisor ed Expedia, oltre alla presenza dei più noti marchi di catene alberghiera internazionali. Il tema della nona edizione è UI, una riflessione sul perché si viaggia alla ricerca di nuovi percorsi ed emozioni. Il UI significa andare all'interno del cuore delle organizzazioni mondiali del turismo online e capire nelle loro metodologie che cosa può accadere di nuovo. In realtà queste grandissime organizzazioni che abbiamo quest'anno all'interno della BTO, da Airbnb a TripAdvisor, Expedia a Booking, abbiamo cercato di invitare personaggi che fossero veramente all'interno della struttura dell'organizzazione, quindi non soltanto i direttori marketing ma personaggi veramente di grande livello che potranno in questo modo farci conoscere gli sviluppi del turismo prossimo futuro. Un evento, quello di BTO, che sta generando sulla città di Firenze un impatto economico importante. Secondo l'ufficio di statistica della Camera di Commercio, grazie alla manifestazione la ricaduta economica in città è stata pari lo scorso anno a 3 milioni e 700 mila euro per due giorni di evento, un numero che, secondo le stime, è destinato a crescere per l'edizione 2016. È stato uno degli eventi più importanti del 2015, ci siamo resi conto che gli impatti sulla nostra economia sono importanti, sono decisamente importanti. Il nostro ufficio statistica ha fatto un lavoro minuzioso per recepire tutte quelle che sono le cifre dell'indotto sul nostro territorio. Abbiamo visto che siamo arrivati a una spesa per quanto riguarda il territorio di circa 3 milioni e 7 su tutti quelli che sono i partecipanti e gli organizzatori sul territorio fiorentino. Sul palco di BTO ci sarà poi spazio anche per parlare di promozione turistica, dall'appuntamento Toscana 2020, dove saranno presentate le strategie di destinazione per i prossimi anni e anche di politica regionale di settore, tra i temi caldi sul piatto, quello della regolamentazione del fenomeno di Airbnb. Il confronto, quando è stato cercato, noi siamo sempre stati disponibili. Oggi siamo in una fase più avanzata. La regione ha adottato in giunta un testo di legge innovativo, fortemente innovativo, che mette le mani anche sulla regolamentazione della sharing economy, o perlomeno definita sharing economy, altro in realtà. La disponibilità nostra, trattandosi di una discussione assolutamente nuova in un settore che non ha una disciplina di riferimento a livello nazionale, interessa chiaramente anche a noi, trovare il giusto punto di equilibrio.